musica 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 ma frate non perchè ma tieniti la tua l'ultimo tempo rimasto non hanno il telefono si non si portano il telefono al lavoro sai che c'è scritto? stai facendo una live di studio si ma noi sono cambiato lo è stato no fra è troppo alta mi sa che devo passarla sai che hai iq stai f***** sei fortissimo f***** 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 ma c'è c'è eri lì fermo sei stato lì tre quarti d'ora sono ben arrivato io per una volta non è capitato a me no va ah da c'è u?? mass vera si come sei f***** non sono detto ma che c'è c'è un fatto a caso fanno quanto appena a casa libero anche il mar fattore punti di buc su cpd frate mai salvato il culo non lo so nel trattore riuscita da scavalcato insieme un po Cazzo, come ha fatto a non prendere un action? Nooo, vabbè, mi ha preso lui, volevo lanciargli la granata Ma regà, non mi piace sta senza, non vorrei dire Figa, stai fai paura Mamma mia Mi fai paura E ho chiudito Eh, lo so, ce n'è uno Ma ho mandato ora un messaggio Il tizio della squadra di prima dove ho fatto 17 kill E mi ha scritto GG GG well played Se rimani in questa zona, il nemico ti scoprirà Ha spaccato su Se rimani in questa zona Easy Bella, bella Ho fatto un run out e me ne so Guardate come l'ho fatto, guardate come l'ho fatto Guarda Ha 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 Regà, stai, tu fai paura Sei tu che te la meriti con la sole nero No, mi piace il mio completo dei rog Tranquil Possiamo mangiare finalmente Non hai ancora mangiato? Epica, epica Tanto sarà una porcheria E' una schifo Ma al solito Aspetta prima prima Cos'è? Vedi pure duplicato Cos'è? Copricapo per mute Clone si chiama Tu meglio che non ti lamenti con i pack Perché qua quello che si dovrebbe lamentare sono io E' un'altra Adesso ne c'ho un'altra Ne c'ho un'altra Sì Epica ancora Sole nero per Jager No, io lo sto scherzando L'estero sinistro Ma che fai? Non ti lamenta Zio Tu non ti devi lamentare Non ti deve Adesso ce l'ha Mi sto reggito Te l'ha data la sole Ma Allora qui Eeeh A casa A casa No, l'ho hitato un botto Non è morto Una è so Cavolo Raiu, raiu Coprimi, coprimi, coprimi Ultimo uomo per la squadra alleata Disinnescatore attivo Proteggetelo a tutti i costi Cioè un po' siamo di No Madonna Tobi non so se hai visto che kill Figa Cheat si tolgo Per tanto i detri Io ti posso guiderare quello Cioè nel mio Bel po' lento Ultimo nemico I difensori hanno eliminato Tutti i nemici per ora funziona toby toby puoi smutarmi toby frani visto si 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 ho appena a destra ok a destra no 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 non ci voglio credere ultimo nemico rimasto mi serviva troppo la kill un operatore alleato rimasto no no era destra ok poi lì ci vengono a pescare fatto ho fatto ma dai che non ti ho visto la testa ragazzi io pietro basco ricarica allora una sul pin no guarda te mi ha chiuso in faccia ma hai peccato qua c'era sotto vicino a me porta principale io dietro a perso torna dietro a perso se entri nel bar troppati su quel piano e rotolo potete provare a plantare bene bene ma infatti per plantare lancia la flash e lui planta qui in gas smoke ma ha fatto cadere su aspetta che è diffuso poi lo venga da bella sta imparando bella bella raga ma che chi lo so fatto sulla seconda per fire porto demoni figa l'ho visto a mio punto non ho neanche visto ho detto what the fuck figa hai provato beh vedi che al cala ste ci stai carriando c'è kill no no l'ho ferita l'ho ferita mi sento qui stefano toby lo sapeva o no non lo so però io ho ammazzato questa non so che ce la puoi fare facci vincere steve magari ti viene da dietro quella finestra lì io non vorrei ecco beh grazie che me ne piace perchè non lo sentite gliel'ho fregata esatto la kill è più bella brava guarda io l'ho visto in te che litigavano come dei bambini no non litigate non litigate ti sono io atterrato 1 fatto ah così fatto maestro nooo non ha vita stanno andando stanno andando stanno andando sono due no no cacchio quasi c'è mezza vita mamma mia però non avevo più colpi se non ammazzavo inizia anche così compano un creep a frost ricarica steve ricarico bravo mi si arriverà che di secondaria no non ho più colpi no come hai fatto a non farti fronte quando stavi sparando al muro eh calmo ste non ti cazzate non lo so è entrato ok adesso fermo che c'è la gente dimmi si è entrato guarda come ci muore ma bella grande steve nooo mi ha fatto da un kick che non mi ha idea mi ha fatto male anch'io però mi ha fatto la kick con la secondaria che mi serviva che bello nooo Grazie a tutti.